La Guardia di Finanza di Catania ha sequestrato e chiuso un negozio di compro oro, ritenuto abusivo e oggetti preziosi per circa 150.000 euro. L'attività commerciale apparentemente in regola, secondo quanto emerso dall'indagine, in realtà non era iscritta al previsto registro professionale dell'organismo per la gestione degli elenchi degli agenti in attività e dei mediatori creditizi. Le fiamme gialle hanno sequestrato 14 kg circa di oggetti e monili in oro e argento, ritenuti profitto dell'attività illecita. Tra questi un orologio Rolex con diamanti, denaro contante per 6.500 euro ed assegni per un valore di 12.000 euro. I militari stanno accertando l'origine dei preziosi rinvenuti, analizzando anche documenti trovati nel negozio e le denunce di furto. Il titolare del negozio, un 35enne catanese, è stato denunciato per esercizio abusivo dell'attività di compravendita o di permuta di oggetti usati in oro o in altri metalli preziosi.